Ciao a tutti sono Isaac e c'è un tizio che non mi farà niente Allora siamo qui su metro 2033 Un attimo che abbasso l'audio diamine Siamo qui su metro 2033 e siamo diretti a... No no non voglio vedere l'ora No ho detto G no è M sì Allora siamo diretti a... A Polis A trovare Miller Dammi quella maschera La maschera la maschera la maschera la maschera Qual è la maschera F no T T T T T No non è T è G tiene brutto G Ah no c'ho già la maschera porca miseria l'ho dato lì Ah che casino Ok a posto Ehm Ehi gente aprite Non lasciate i vostri fratelli a due gambe in balia di una morte assurda What? E te come ci sei passato Ah aiuto Comunque ho scoperto cosa serve questa roba qua No mi pare di averlo già scoperto Serve a caricare la luce Ecco qua Sì Allora Sta zitto Allora Andiamo di qua Quello che mi preoccupa è che Sta per finire l'ossigeno della maschera Brutta cosa Cosa devo fare Posso passare qui in questa specie di melma verde Credo che sia obbligatorio Andiamo Di qua Di qua Su 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 Perché non mi fa vedere Ok su Abbastanza lenti Dai Ecco Ciao Ah siamo arrivati Bene Eh sbrigatevi no Bravo Bussa come faceva Hunter Vai 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 Così credono che sia un mostri Si Nessuno Non ti preoccupare Non vedi Non c'è nessuno Se sei sordo siamo a posto Se non sei sordo Magari potresti sentire Di estrarre in un muro Ma è il vento È il vento Come tutti dicono Noi abbiamo Che è il vento È il vento E sta No Non è il vento Non è il vento Ah vabbè Chi se ne frega Alla Harry Potter Oh mio dio Eh Eh Ah 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 Ok Con Q Si vedono i medikit Ah ecco i medikit Perfetto No Non sono medikit Li ho tirati via Li ho dati ai mostri Perfetto Diamine Siamo delle bestie Insieme Eh Che cos'è Capriola mortale Oh Ciao carretto Una gear Allora Ah ah Non mi prenderei mai No Mi hai preso Ok Dammi sto Bastardo Che non vedo l'ora Di cambiarla Perché c'è un rinculo Incontrollabile E fa anche Poco danno Oh Qui abbiamo lasciato Ormai più cadaveri Che nelle crociate Eh scusa Possiamo Andare avanti Oh là Sembrano essere finiti Siamo qui Questi tizi Non hanno nessun senso Dell'umorismo Ma cosa vedo I miei occhi Barbo Amico mio Sei proprio tu Non speravo più Di rivederti vivo Simon I tuoi amici Proprio non hanno Un senso dell'umorismo Siamo nei guai Fino al collo Ehi Che coincidenza Stavo proprio Venendo a trovarti Sarebbe meglio Togliersi la maschera Ah non sono due amici Sono Ricordi dove devi aspettarci Sì sì Gli devi dei soldi Giusto Anzi delle munizioni Giusto Morita Ops No 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 Pensavo fossero Immortali contro i miei proiettili Oh mio dio Ok dobbiamo subirci di nuovo Tutta la risata Cos'è quel 62 Sopra le munizioni Della Della mia arma Forse sono le munizioni speciali Però non so come caricarle Ok So come caricarle Oddio Guardale come sono belle Meglio prendere le vecchie munizioni Eh Queste sono più belle Vorrei colpirmi Cioè poi mi finisce la missione Perché non sono libero di fare quello che voglio Però posso sparare a lui no Che arma c'ha lui Non è giusto C'ha un super fucile a pompa Con una baionetta Non ci credo Cioè Che schifo che fa il mio fucile a confronto Oh là Entriamo Che lenta Carichiamo la torcia Oh poveri cadaveri Wow Spiaccicati Questo sembra uno di quei caricatori Sì Uno di quei caricatori delle vecchie lampade Quelle Che dovevi caricarle per farle funzionare Non avevo mai visto un mercato come quello C'era davvero di tutto Ma Barbon Doveva dei soldi alle sentinelle Oh sono un genio E non vedeva l'ora di andarsene L'ho capito che gli dovevo dei soldi Cosa? Fatemi vedere Piano Niente movimenti bruschi Che mi venisse E Barbon Ehi ragazzi Sarà meglio per quesirli questi due Sembra essere un piccolo Problema avere Barbon Dalla nostra parte Ah Ah ma LOL Pensavo fosse buio perché Che lenti che siamo Cioè Dove Dove devi andare A far una rapina Ok Oh Gran bella M60 Ehi voi avete una K Perché tutti hanno una K E io c'ho il bastardo Però Quanto dobbiamo stare qui? 10 anni Va bene 20 Dai 20 Oh ecco che torna Non mi hanno manco perso Vabbè ok Posso stare con voi? Ok preferisco te Allora Perché? Eh lo so Ma io non c'entro niente Eh Io sono con te perché Ash Come hai fatto a teletrasportarti? Non possiamo andare Ascolta Eccoti delle cartucce Ci puoi girare Ma a procurarti un paio di filtri Ok Ho un'idea Devo andare a parlare con una persona Possiamo vederci al bar O da qualche altra parte Come preferisci Al Al bar Hai circa 5 minuti Dove ci dobbiamo vedere scusa? Ma vabbè ok Allora devo andare a prendere 5 minuti? Ah funziona l'orologio Allora non è che lo usiamo soltanto per far cagare Togliti la maschera Diamine Ok Continua a mettersela e togliersela Allora tra 5 minuti Fa vedere un attimo Ah la maschera 4 si toglie No 4 No G G G per muto si toglie la maschera Ok T è per vedere l'ora Che non posso vedere F è la torcia E tenuta per muta Mi dà la macchinetta Eh di schifo Ok Ma Q Medikit Quando mi devo curare E H No G G è per la maschera Non serve Ok va bene T Premuto No T premuto non funziona Non posso vedere l'ora Diamine Ora 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 Non avete qualche orologio Posso passare? No Ok allora Quell'arma è ottima Ciao Ha ragione È un mercato abbastanza buono Anche con gente che ti sposta Ash 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 Oh ma è pieno di Ash Oddio Oh ecco qua le armi Questo sembra un venditore d'armi Ma io sto cercando i filtri Posso entrare? Ah no Questo è uno dei Delle stazioni di scambio In pratica ho capito come funzionano Io gli do Un'arma A parte le granate Sì I medikit anche Ecco filtro Filtro costo 10 Vabbè dai Accetta 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 Munizioni insufficienti Munizioni insufficienti Ma Non esistono di più affilati Pugnale Ah giusto Devo capire cosa fanno quelle Resta attaccata Uh una semtex Va bene ho capito Capito Come vuoi tu cosa Uh Te c'hai i miglioramenti Non è un giocatore il mio Se vuoi ti sparo Vediamo se è un giocatore Allora Con lo scambio Con lo scambio in pratica mi scambia La mia revolver E mi da questa Se li pago Se si fa Fambroda Ok Tu invece Hai quelle Le munizioni Quelle Da caccia Quelle Sì Quelle nuove Cosa vuol dire Ah questi sono i palettoni Per Boh per Per cannone Questo invece Ok Ok Non ho capito cosa siano queste Sono munizioni Ma di che cosa Non mi dicono Oh queste che sono invece Vabbè Lo scopriremo più avanti Qui c'è una bicicletta Tu invece sei soltanto così Per bellezza Te cosa Cosa ci fai qui Niente E Posso passare Qui possono passare Solo i residenti E gli operai della zona Ah hai capito È la zona Anza Cosa vuol dire Anza Qui non sei il benvenuto Ok Anza vuol dire Qui non sei il benvenuto E dai mamma Compiamo un tapo Un tapo Oh mi Ah ah Certo che questo mondo È veramente strano Allora Cos'è quel cosa Ehi fammi vedere Cos'è quel cosa Boh Allora dobbiamo trovarci al bar Giusto qui Dove sei Dove sei Sei riconoscibile Ah no è qui Ah ecco ti qua Come l'arma Dove dobbiamo andare A lanza Oh fa Continua a confondermi Cosa devo fare No questo no 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 Spreco i filtri Spreco i filtri Via via Spreco i filtri Via Come se non lo sapessi Sgancia i soldi E sparisci Questo sembra tanto Vegeta Però non hai pagato me Ma se non ti interessa passare Qui è la metropolitana di Mosca Merda È proprio un piacere fare affari con te Pagalo 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 Scherzando Se qualcuno mi sente Mh Anetevi pronti La porta si sta aprendo Ah e dobbiamo fare in fretta Ok Oh di nuovo la nostra Basta Forse ci servivano munizioni Sì Vabbè dai useremo questa E le munizioni Delle altre armi le troveremo no Spero Non c'è nessuno Questo sembra Dobbiamo salire Salire in superficie Via Ehi Oh Trapassato remoto Buona fortuna ragazzi Andiamo a svegliarci Abbiamo aspetto Wow Ok E quindi dobbiamo Città Ah dobbiamo salire in superficie Perfetto Quando sbucammo tra le rovine di Mosca Provai paura e dolore Ma dopo una vita passata sottoterra Notai anche la strana bellezza del cielo buio E del paesaggio congelato Ecco la città morta Por botto parvo Benvenuto a casa Artyom Eh G G Ok Funzionano i filtri? Perfetto Fai molta attenzione Mu con tre o Wow Questa è una stazione dei treni E questo è un cittadino felice Felice di essere morto prima Quei pazzi salgono in superficie quasi ogni giorno In cerca di rottami, munizioni Tutto quello che trovano Capita di vederne morti e congelati Come pupazzi di neve Vestiti di stracci Per mostrare la stanza a fondo Potresti trovare un altro deposito Ok Spesso ricavano dei nasconditi in superficie Per ogni eventualità Quindi se ti guardi bene attorno Non ci mancheranno filtri di ricambio e munizioni Ah si Eccone qua Un filtro ho trovato Ma come si fanno a cambiare i filtri? Hmm Si Cioè c'è c'è Oh mio dio Allora vediamo Qui cosa abbiamo? Andiamo Andiamo si Io non ho Oh si beh ecco le qua le munizioni Dai si va bene Ho anche un po' di munizioni per la revolver E Basta Ah siamo a posto dai Andiamo Ti devo aiutare Cosa cavolo Ah boh Cioè Oddio in realtà C'è questa macchia di sangue Oh Cioè Va bene una porta alta 2 metri Ma una alta 4 Mi farà un po' strano Riuscirla a buttare giù Con un calcio Hmm Prima volta che vediamo mosca Wow Wow Nasconditi ragazzo Andiamo Perché? Resta nascosto Se incontriamo la bestia all'aperto Infilati nel primo buco che trovi Perché? Alcuni li chiamano demoni Per me sono solo strozzi Ah beh Ovvio Perché sono demoni Adesso in superficie ci sono i demoni E? Quindi? Cioè perché mi hai chiesto di nascondermi? Allora se Ma Ecco la città morte Benvenuto a casa Ok Ecco le famose frasi che Stavamo aspettando Ehi Ma che Mirror's Edge proprio Eccolo Eccolo Prendimi Prendimi Sei un gran genio Perché? Dove sono atterrato? No Brutta cosa Cosa di amico mi sta succedendo? Aia Dove è il corrido? Dove è il corrido? Il corrido posteriore? Vabbè ok Adesso Ah 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 Non farmi andare qui Perché Ah Cosa ca Wow Che cacchio è questo? Non dimenticare di usare la bussola sul diario M Ok Ora dobbiamo salire qua sopra No Non dobbiamo salire qua sopra Dove dobbiamo No no Aiuto Fammi andare qui Mmm Dove dobbiamo andare? Dare Da Re Ok Andiamo di qua Ah ecco qua Come ho fatto a non notarla? Mmm Dobbiamo usare la macchina? No Di qua? Sì di qua Come si faceva a notare? Ah guarda G Ah questo cambia i filtri Ok Come faccio a vedere il filtro? Ah ti Vabbè dai Non male Ok mi son capito con i tasti Ora possiamo iniziare A giocare Fucile a pompa Un po' di roba Sì dai Ma che ci fai te qua morto? Ah Congelato L'omino blu lo chiamavano Primo buco che trovo Sì dai Sembra un buco Togli la torcia E aspettiamo che passi Eccolo qua Modalità Step Pareto Un filtro? No È una Oh ho trovato un caricatore della K Merda No 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 Primo buco che trovo Spenta la luce Non mi troverà vero? Non mi troverà Sì mi ha trovato Oddio ma son tre volte più grandi qua di sopra O almeno secondo Beh Cavolo Aiuto Atmosfera inquietante Devo aprire sta porta? No Cioè Andiamo È È pieno di Pieno di sti robi con superficie Ma non capisco perché Ce ne siano anche di sotto Cioè se hanno sigillato tutto quanto Per bene Perché se hanno dimenticato qualcosa Allora sono scemi loro Salvare cosa? Ah la partita? Ok salvata Si è salvata automaticamente Salvare vita di chi? Di chi? Di chi? Ah mia? No 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 Non cambiare filtro Va bene ok Salvere vita di chi? Wow Dove è finito Coso? Non mi ricordo come si chiama Ehi Che cavolo Dove stavo scappando? Questo posto Mi ricorda un sacco Un hatched Un totem di Call of duty 5 Zombie Spero che Non ci siano anche gli zombie Sarebbe Troppo Stupido Cosa c'è qui? Fucili a pompa Qui se non sbaglio Troviamo munizioni Cioè la maggior parte Delle munizioni Che troviamo Sono munizioni Ah dobbiamo scendere di qua Sono munizioni Pre-esplosioni In pratica Quelle Quelle forti Se non sbaglio Fammi controllare Le munizioni No Strano Ehi Non ti avvicinare Lascia stare Salvare vita Dovevo salvare la vita Di sto tizio Oddio Ma certo che sono Brottissimi Oh no Aia 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 No 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 Ah 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 Quanta cavolo di vita Ce l'hanno Quanti cavolo sono Oh mio dio Curati 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 Grazie Olè Certo che Sono strautili Medikit Pensavo che No Ehi Mi spacchi anche la Oh no Se si spacca anche la La maschera Siamo fregati Perché Perché è bruttissimo Se si spacca la maschera In pratica Ci abbiamo la vita contata Medikit non servono Neanche a niente Aspetta Fammi ricaricare la torcia Qua Oh Fa più luce Quando è carica Ehi Oh Mamma mia Mi è saltato addosso È bruttissimo Te l'ho già detto Mori Ok Ok E così morì Devo ancora capire Un commento Che mi diceva Che c'è anche Il libro Di sto Film Sì dai Di sto gioco Eeeh Quindi Sembra essere interessante Sembra che C'è Oh una nuova maschera Nel caso Sì Cambiamola dai Prendi l'altra Ok Oh là Perché ci sono comunque le crepe Eh Crepe Eccole qua le punte 8 punte Come si fa Si usano con 8 No Non ho capito come funziona Datemi una mano Eeeh Che cavolo succede adesso Chi? Bigfoot? Eh Non lo so Ci mancherà adesso Che dovessimo Arrampicarci sui tubi Alla mirror stage Allora Ah qui il cortile Ecco Bianco Flash Chi ci ha scattato una foto? Wow Wow Un flashback Altro che Aia Mi Io sto giocando al buio E tra l'altro Questi flash Mi Mi distruggono gli occhi Cioè No mi scivolo Scivoglia Non possiamo Peccato No 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 Sono i bambini questi Poreti Non vi hanno fatto niente di male Aiuto Ma dov'è l'altro tizio? Devo farmi strada nel cortile Ok Mi sono fatto strada nel cortile E quindi Eccolo qui No Di qua? No Dove? Ah di qua Ok Un'altra Un'altra volta Cosa sta succedendo? Sono tutti Effetti audio Mi pare che siano tutti Ricordi Della vecchia mosca Non passa Ok è passato Aia no Da dietro Ah Aia Aia No Perché ho sparato quello morto? Perché sembrava vivo Cioè Hanno un modo di morire Strano Morto? Ok Curiamoci Che è meglio Ah Ok Mi son curato Dove sei Tizio? Non mi ricordo più come si chiamava Ho perso Ogni suo contatto No Di qua è giusto Di qua Cosa c'è? No Non me l'aspettavo Volevo accoltellarlo Qui ho visto una granata Eccola qua Non devo toccare l'acqua Perché è tossica Ma io sono immune Al tossico Però non so perché Non sono immune All'acqua Ah Corri C'hanno il doppio della vita Qui sopra Ops Si sono arrabbiati Lo so Lo so Ho fatto fuori qualcuno Che non doveva far fuori Giusto? Ok Quello è il tubo Che ci porterà Di sopra Aia Aia Curati Non puoi curarti Ok Sei scemo Ok Siamo arrivati Da questa parte E E Metto fino all'episodio Ehm Si Nella prossima parte Credo che Ritroveremo Il nostro Caro e vecchio Amico Non mi ricordo come si chiama Noi Ci vediamo alla prossima Ciao E alla prossima Ciao Grazie.